Che cosa ne pensi del silenzio punitivo del narcisista? Wow! Questa ragazza chiede Non se ne parla molto, ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi del silenzio punitivo del narcisista e come si dovrebbe comportare se lo ricevi Se non vedi a tentazione e non lo contatti lui tornerà o sarebbe un'umiliazione troppo grande? Se non cedi, intendo Quindi se non cedi a una tentazione e non lo contatti si chiede se tornerà o meno oppure no, perché altrimenti sarebbe un'umiliazione eccessiva per lui Assolutamente un tratto del narcisista un tratto di una persona che ti evita è teoricamente per due motivi o perché vuole toglierti dalla sua vita in quel caso sarebbe una cosa positiva e quindi tipo no contact o damnazio memoria o perché dall'altro lato invece vuole ottenere qualcosa in cambio a te e non la riesce a ottenere quindi pratica il silenzio punitivo e vede se questo genera uno shock nella tua persona se ti porta poi a volere la persona che pratica il silenzio punitivo poi diciamo che se non cedi la tentazione è probabile che quello torni può tornare per molto tempo mesi se non addirittura anni magari lo ritrovi dopo dieci anni cioè tutte le persone possono tornare però il silenzio punitivo in generale è qualcosa che puoi utilizzare anche tu per manipolare l'altro o comunque puoi rispecchiare e fare mirroring nei confronti dell'altra persona che significa? se io faccio silenzio punitivo tu fai silenzio punitivo nei miei confronti questo però ovviamente quando non si ha interesse nel creare qualcosa di sano non si ha interesse nel creare qualcosa con quell'altra persona ma si ha interesse soltanto a svegliare un po' l'altra persona risvegliare una sorta di dare un messaggio di shock ok? quindi di far vedere all'altro che cos'è realmente quindi gli serve tra virgolette la sua stessa moneta lo ripaghi con la stessa moneta in quel caso però quando lo fai e quindi se fai silenzio punitivo eccetera la funzione ottimale sarebbe quella di accantonare completamente la persona e dedicarti completamente a tutt'altro se non addirittura a conoscere altre persone non ha molto senso spingersi a fare cose del tipo strategie altre tipi di strategie che non siano questa quando ti reazioni con questo tipo di reazione fare silenzio punitivo di conseguenza se invece hai interesse con l'altra persona quindi l'altra persona è qualcuno con il quale magari o con la quale volevi costruire qualcosa di sano in teoria aprirsi al dialogo potenziale dire ok sarebbe ottimale magari parlarne di persona potremmo risolvere se ti va sono aperto per il dialogo mi va di parlarne io quando vuoi mi trovi qui aspetta un po' se la persona non torna allora taglia completamente i ponti la persona non credo che per lui diciamo per chi fa il silenzio punitivo non si tratta di umiliazione si tratta di potere si tratta di un gioco di potere l'umiliazione è un'altra storia avviene molto dopo secondo me l'umiliazione o comunque la paura di essere umiliato di perdere tra virgolette la il proprio la propria immagine viene molto dopo prima c'è invece quella percezione di chi ha il potere e chi no ecco quella invece prevale cambia drasticamente e penso che sia fondamentale capire che queste persone in teoria non ti possono garantire una relazione sana il silenzio punitivo è un'ottima arma usala però con persone delle quali non ti interessa realmente usala per manipolarle per vedere se poi tornano e poi cercare di capire se puoi costruire qualcosa di sano o meno con quelle persone andare a utilizzare il silenzio punitivo per molto di più e quindi smettere di parlare eccetera e dargli la stessa moneta non è funzionale a mio avviso io ti ringrazio per aver visto il video ricordo sempre iscriviti al canale sotto trovi il link per i miei libri che trovi anche su Amazon oppure per una consulenza privata noi ci sentiamo al prossimo see you in the next